Allora, perché ho chiesto ad Anita di essere qui? Perché Anita è una sciista. Allora, come anticipato, io non so niente di sci. Ottimo. Non so niente di sport e in particolare di sci. Quindi ti chiederei, com'è iniziata la tua carriera e che cosa stai facendo oggi? Allora, iniziata molto molto tempo fa. Cioè, carriera, oddio, ufficialmente carriera, più recentemente, all'inizio era più passatempo e hobby del fine settimana, però diciamo che ho iniziato a sciare quando avevo tre anni, quindi molto tempo fa. Sì, sì, praticamente mio nonno aveva una casa a Bardonecchia e quindi fin da quando sono piccola, che è il fine settimana, andiamo su con tutta la mia famigliola e niente. Devi già sulle racchette da sci. Esatto, esatto. No, mi immagino la scena dei miei, tipo, che vanno in montagna e, sai, per smollare i figli a qualcuno, li portano nella scuola a sci. E dice, tenetevi voi che io non ce li sopporto più e fatevi fare qualcosa. Te siamo ancora in buone minore di tre. Più o meno così. Ah. E quindi, no, vabbè. No, no, ci sta, ci sta, perché poi, diciamo, considerando i tuoi risultati, è data bene, quindi perché no? Sì, 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 mi hanno smollato lì e alla fine mi sono divertita abbastanza e, niente, adesso continuo a farlo. Questa volta senza i genitori, però, da quello che ho detto. Esatto, esatto, esatto. Adesso, autonomia, cioè, i miei nuovi genitori sono la federazione italiana e, niente, quindi vado in giro con, cioè, un gruppo, proprio la squadra, che ogni anno cambia, può cambiare in base ai risultati, insomma, ogni anno fanno la squadra. Adesso, quest'anno, siamo sette atlete, ragazze, e abbiamo anche, più o meno, di staff in totale, sono sette, otto persone. Ok. Cioè, quasi, e sono un misto tra allenatori, preparatore atletico, fisioterapista, e poi ci sono tutti quelli che si occupano degli sci, che è quella una parte abbastanza importante. Ma facciamo un po' di flexing, come si dice qua, cioè, tu, dici un po' di titoli, di cose, che so che sei stata alle Olimpiadi di Pechino, ma come... Sì, quello diciamo che è stato, magari, tipo, l'apice. Quindi tu sei, a tutti gli effetti, una concorrente olimpionica. Sì, sì. Bego, io ho un... Attenzione. Adesso vi faccio vedere. Ti prendo la testimonianza. Vai. Qua, chat, e vi porto... Qualcuno, comunque, ha beccato il cognome, quindi... I titoli, i titoli. Ecco. Che lo tengo in camera, sempre qua, portato in mano. Metti mai che uno dica, tu non sei stata alle Olimpiadi. No, invece, sono stato... Certo, se te lo chiedono, perché molta gente, magari, faticherebbe a chiederle, invece, questa è proprio la prova. Vedi, questo è il mio passo olimpico. Tac. Ma si vede? Sì, la qualità non è delle migliori, non so che connessione tu abbia, ma comunque, lo vediamo, lo vediamo. Cosissimo, di sicuro, comunque. Bello brillante. Il passo olimpionico, anche con tutte queste spillette, che ovviamente non riuscirete a vedere, che però sono carine perché ho scoperto, ho scoperto che le spille sono una cosa importantissima delle Olimpiadi, perché ogni paese ha la sua spilla. Ah, sì? Quindi questa qua è Slovenia, Belgio, America, poi c'è Polonia, Cile. E te le danno o devi procurartela tu andando dai singoli? Esatto, praticamente io sono accorta dell'importanza delle spille in un modo un po' particolare, perché... Allora, un giorno una ragazza cilena mi ha chiesto un favore, le serviva un pezzo di ricambio di uno scarpone, oh? Mhm. E quindi, niente, io ne avevo un pezzo in più e quindi le ho dato un pezzo di scarpone. Ma scusami, lei non era un tuo avversaria? Sì, vabbè, però, Dio, comunque lo spirito olimpico è... Che spirito olimpico? Col cazzo! Ti attacchi! Vai a piedi! Stai senza! No, vabbè, dai, comunque... Ci sta, ci sta, ci sta. A me non serviva, ho detto dai, mi ha fatto per temerezza. Allora, le ho dato un pezzo di scarpone e lei per ringraziarmi mi ha portato sta spilletta del Cile. E io dico, ma che brutta! No, ma... No! Ma come che brutta? No, ma non sapevo dell'importanza di queste spille, quindi praticamente mi ha dato sta spille e dice, vabbè, grazie, ma... Sti cazzi, ok. No, me ne faccio proprio di niente. Poi invece nei giorni vedo che tutti andavano in giro a chiedere spille, ma c'hai una spille, ma è? E praticamente ho scoperto che ogni paese, tipo a ogni atleta, vengono date un tot di spill, quindi magari noi avevamo cinque o sei spill e poi devi andare in giro a scambiarle e cose. E poi c'era gente con questi pass qua completamente ricoperti. Io purtroppo ho fatto del mio meglio, ma comunque... Quindi anche l'Italia ti aveva data... tu concorri per l'Italia, giusto? Sì, 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 esatto. Sì, sì. Bene. No, diciamolo. Quindi l'Italia ti ha dato delle spille? Sì, avevo le mie spillette dell'Italia e... E niente, tra l'altro erano super richieste perché erano carine, tipo semplici, basiche, così. Perché una... Bello! Piccolina, coi cerchi, taglia, bandiera, vabbè. Senti, volevo capire, innanzitutto, in generale, che cosa vuol dire competere nel mondo degli sci? Cioè ci sono tante discipline, immagino? Allora, sì. Sci, così, se tu dici semplicemente tra la parola sci, ci sono diverse specialità di cui... Vabbè, prima distinzione, sci di fondo e sci alpino e sci alpinismo. Sci alpino è l'unico, il migliore, è quello che faccio io. No, non il migliore, però quello è meno faticoso, secondo me. Cioè è una fatica diversa perché... Dici un po' di definizioni perché io non... No, sci di fondo è tipo quello in pianura, diciamo, e quindi sono tutte che spingono, eccetera. Ok. E dura anche, magari, ci sono diverse specialità anche lì, però è uno sport abbastanza aerobico, di resistenza, di fiato, no? Sono tutti degli stecchi così. Ok, quindi tu c'hai gli sci, vai dritto sulla neve, per quanto tempo, una gara, tipo? Ma no, questo è il sci di fondo, che non è il mio. No, ok, in generale, però. Ah, ma io che faccio sci alpino, la mia gara dura un minuto circa. Ah, secco, così, ok. Sì, 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 infatti è un'agonia, cioè quel minuto lì... Quindi chat, vedete, anche un minuto può essere importante, ditelo alle vostre partner, non è necessariamente... Sì, no, ogni tanto se ci penso che io mi alleno tutto l'anno per fare un minuto di gara, mi fa ridere. Cioè è gente che si allena tutta la vita per quel minuto, quindi... Esatto, esatto. Ehm... Ok, quindi sci alpino, tu fai alpino? Alpino, sì. Alpino, in cosa consiste? Alpino si va in discesa, giù per la montagna, quindi diciamo che non serve essere magri, perché comunque devi andare in velocità, in discesa, e anzi quasi più sei pesante, meglio è, diciamo, no, non è vero, non c'entra però comunque. E praticamente anche in sci alpino ci sono quattro discipline. Ok. E cambiano in base alla distanza tra una porta e l'altra. Fai conto che c'è una pista. Sì. E su questa pista ci sono le porte che sono... si chiamano porte, sono... Quei due bastoncini con la bandierina. Esatto. Ok. Esatto. Che allora le porte sono così, bastoncini con la bandierina, in tre discipline. Mhm. E poi c'è un'altra disciplina che invece che avere la porta così ha un palo singolo. Oh, ah, ok. Un palo singolo, che quella è la mia disciplina. Ah, ok. Speciale si chiama. Speciale. Speciale, uè. Esatto. E niente, tutte le discipline si differenziano dalla distanza tra una porta e l'altra. Ok. E di conseguenza anche la velocità a cui si va, perché se tu metti le porte a 50 metri o a 10 metri, nelle porte a 50 metri vai molto più veloce, perché praticamente non devi fare curve. Mentre se le porte sono molto vicine devi fare tantissime curve. Ah, certo. Perché le porte sono messe in modo per fare un percorso sostanzialmente. Sì, 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 esatto. È un tracciato. È proprio un tracciato, cioè praticamente un allenatore che arriva nella pista, mette le porte come vuole lui, cioè seguendo certe regole, nel senso comunque ci sono dei limiti entro cui deve stare, però è l'allenatore che decide un po' come tracciare. L'allenatore è ovviamente esterno alla gara? Cioè nel senso non è l'allenatore di uno? L'allenatore no, è di un team, però sono scelti, ogni gara cambia, adesso non sono così esperta da sapere bene come vengono selezionati, però sono a rotazione, come dire. Ok, quindi rimane fair, perché magari lui sa che nel suo team c'è una volta forte a fare delle curvacce e li mette brutti. Esatto, esatto. Cioè ci sono alcuni tracciatori, alcuni allenatori che fanno dei tracciati orribili, però insomma alla fine un atleta deve sapere fare... Certo. E domanda uber stupida, le porte le devi toccare con gli sci, con il ginocchio, con l'astice, con cioè con i... Come cazzo si chiamano quelli? Allora, coi bastoni. No, allora, le porte sono messe lì e l'unica regola che tu hai è che devi fare il giro intorno, no? Cioè devi farle tutte. Certo. Non puoi saltare una porta, se no è finita la gara. Ok. Quindi devi farle tutte, però puoi decidere tu, insomma, non è che devi per forza abbatterle con la mano piuttosto che di testa, cioè insomma. Però per essere fatta si intende che... Generalmente, generalmente sì, che praticamente c'è la montagna così e qua c'è una porta e qua c'è un'altra porta e tu devi fare il giro intorno. Ah, ok, devi... ho capito, ho capito. Perché solitamente sono una destra, una sinistra, una destra e una sinistra e tu devi fare tutto. Ah, ok, lei devi includere diciamo nel... ok, ho capito. Esatto, esatto. Sì, tu segui sto tracciato, poi... ma viene poi naturale, nel senso che... Ed è naturale che quindi le pesti, perché vuoi passarci ovviamente il più vicino possibile. Eh, praticamente sì, tu passi molto vicino e in slalom solitamente si prendono con la mano. Quindi fai così, tac, 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 e le abbatti una alla volta. Beh, fatta così sembra facile, ma ok. Più o meno. No, è lo slalom, quindi si abbattono. Nelle altre discipline è quando c'è la porta, quella con due pali e la bandierina. Quelle lì invece non è che le abbatti con la mano perché non si riesce. In garbugli. Si prendono tipo col braccio di fianco. Ok, ok. È molto diverso, grazie per la dimostrazione. E tu come sei approdata a questa disciplina? Cioè, nel senso, all'inizio immagino quando c'hai i tre anni, immagino andassi a cazzo di cane sulla neve. Quindi fai tutto. No, no, esatto. Vabbè, all'inizio vai giù per le piste così tutto dritto a casa. Poi quando ero più piccola faccio tutte le discipline. Dalla discesa libera e quella dove sei più veloci. E le porte sono molto distante. Si va, tipo adesso, le gare di Coppa del Mondo segnano delle velocità, che ne so, anche di 140 km orali. Un mega ioni. Ok. Sì. E quando ero piccola facevo magari anche queste cose qua. E poi invece a un certo punto due fattori che mi hanno condizionato. c'è uno che le mie qualità di atleta erano più spiccate nello slalom. Quindi con velocità più bassa e tante curve. E poi anche un po', diciamo, che in Italia c'è un po' di carenza di slalomiste. Ah, mossa strategica. Forte. Eh, adesso ci sta. Fa parte del mestiere. Ok, quindi a che età hai iniziato a concorrere in questo tipo di competizioni? Ma, allora, il cambio di categoria mi pare che sia intorno ai 16 anni forse. Ok. Cioè, dai 16 anni si cambia categoria, si diventa tipo adulti, nel senso che non fai più le gare dei ragazzini. E da lì, poi, quando entri in quella categoria, come età, ci sono diversi circuiti. Cioè, il circuito italiano, diciamo, il Gran Premio Italia, si chiama. Ok. Gran Prix. E quello ha una tecnologia di gare. Poi ci sono delle gare tipo internazionali, insomma. Quindi tu hai iniziato a fare un po' di queste cose qua e accumulare dei titoli. Cioè, perché come si... No, poi da lì c'è anche, invece, poi c'è il circuito di Coppa Europa e il circuito di Coppa del Mondo. Io le prime... Cioè, quando ho fatto il cambio di categoria, mi allenavo col mio Ciclub di Bardonecchia ancora. Quindi stavo principalmente lì a fare i miei allenamenti, tutto, avevo i miei allenatori lì. Poi, se tu fai un po' di gare, vai abbastanza bene, inizi a avere un po' di risultati, ti possono chiamare col comitato. Ah! Comitato regionale, ogni regione ha il suo, c'è il comitato AUC, sarebbe Alpi Occidentali, comitato, non so, Alpi Orientali, c'è Friuli, Venezia, Giulia, insomma, più o meno, va un po' per regioni. E ti chiamano a fare le gare col comitato e poi quindi cambi già anche il gruppo, perché il comitato è proprio un gruppo, non so. Cioè, quindi c'è il nuovo allenatore, il nuovo tutto. Esatto, esatto. Praticamente ogni anno il comitato, quando finisce la stagione, finisce la stagione invernale, vede come sono andate le gare di quella stagione. in base ai risultati, scegli un top di ragazze e dice l'anno prossimo tu sarai in comitato. Ok. A ti dire no, io voglio andare a vendere pizzette. Che ci sta? Facendo lo slalom. Quando ti sei resa conto che questa, cioè oggi questo è il tuo unico impiego immagino, no? Sì, cioè sono iscritta a tempo perso all'università. Ah, ok. Università di? Fisica, qua, unito. Così, per farsi una risata. Tempo perso, esatto. Proprio io ridere poco. Però, appunto, è proprio una cosa per ridere, diciamo. Tanto per far qualcosa, ci sta. Ma, e quando hai capito che questa poteva essere veramente la tua carriera? Ah, giusto, poi non è carino chiedere ad una ragazza, ma per capire, magari c'è qualche altro giovane che... Quanti anni hai tu adesso per capire? Ho inchiodato il mio interesse. Eccoci, no, dicevo, quanti anni hai adesso? Io ne ho venti... Quattro. Controlla. Venti quattro, ecco. E a che età hai capito che questa era la tua carriera? Beh, è successo alla fine del liceo. Cioè, io fino alla quinta liceo ero convinta di fare tutt'altra roba. Ho detto, ma io faccio il liceo, finisco, mi iscrivo all'università, vado un po' in giro, studio, faccio proprio una cosa lineare. E poi, invece da lì, visto che comunque in quegli anni le mie gare sono andate bene, particolarmente bene, sono entrata in squadra. Ho fatto poi... Cioè, squadra nazionale che vuol dire che a quel punto ti prendi un impegno un po' più serio. Poi, sicuramente all'inizio magari l'ho presa un po', come dire, sai, è un po' un'occasione che non si può rifiutare. Naturalmente. Perché sono le cose che ti capitano e... Cioè, ti capita una volta, non è che poi dici, no, aspetta un attimo, vediamo poi. Certo. L'università puoi sempre farla partire dopo, ma questo no. Esatto, esatto. Questa cosa qua va se è cosa, si fa subito, se no non è cosa. Quindi dall'uscita del liceo, da lì, è iniziato un po' tutto, perché mi hanno chiamato con la squadra nazionale. Poi ho fatto il concorso per entrare nel gruppo sportivo dell'esercito e quindi... E mi hanno preso. Quindi sono anche il gruppo sportivo dell'esercito e da lì... Dell'esercito, cioè in caso di guerra sulle montagne, tu... Sì, no, questa cosa qua è un po' particolare. Nel senso che adesso in Italia funziona molto così che gli atleti, per essere mantenuti, vengono mantenuti dallo Stato, in un certo senso, tramite le forze armate. Ah, è un piccolo escamotage per... Sì, perché diciamo, ma tantissimi paesi fanno così, perché comunque per finanziare gli atleti, no? Però tu ufficialmente sei una militare, quindi? Sì, sì, sì. Pog! Figo! Figo! Sì, 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 sì. Ho fatto il corso... adesso sono quasi 4-5 anni che ho fatto il corso all'inizio, però noi, come atleti militari, il nostro impegno è nel nostro sport. Certo, certo, non vieni evocata per doggiare dei proiettili sulla montagna. E adesso che, diciamo, quindi adesso hai fatto questo, comitato, bla bla bla, squadra nazionale, come si arriva? Cioè, come ci si candida per le Olimpiadi? Come funziona? Ah, eh, lì... ma praticamente le Olimpiadi funzionano così. Cioè, ogni paese ha un tot di posti. L'Italia... ma sai che non mi ricordo più... L'Italia aveva come 12 posti, forse, in totale, delle donne di sci alpino. Ok. Quindi questi 12 posti avevano un tot di atlete per ogni disciplina, quindi che sono quattro, diciamo, discesa libera, supergigante, vabbè, sono quattro. E ogni disciplina potevano correre al massimo quattro atleti, tre o quattro atleti. I numeri esatti non mi ricordo. Comunque, fatto sta che, essendo nella squadra nazionale, sei, diciamo, uno dei candidati. Dei candidati, certo. Sì, e poi sapevamo comunque che c'erano tre posti disponibili e, insomma, a me è andata bene, perché durante la stagione ci sono tanti eventi importanti, tante gare, no, importanti, oltre alle Olimpiadi e ai Mondiali. Tutti gli anni c'è il circuito della Coppa del Mondo, che sono dieci gare ogni anno. Quindi, quello è poi... Guardano anche i risultati più recenti per stabilire chi va, ovviamente. Esatto, esatto. Quindi praticamente noi, prima delle Olimpiadi, avevamo come cinque o sei gare di Coppa del Mondo in cui, se fosse andata bene, probabilmente ti potevi conquistare il posto. Certo. E noi abbiamo, io lì c'è tra stagione, un po' in salita e... Che non va bene se fai sci... No, esatto, esatto. E' proprio il contrario. No, esatto. E no, però ho fatto tutte queste gare, insomma. E l'ultima gara, prima delle Olimpiadi, invece, è andata bene. E quindi l'ultima chance l'ho colta e alla fine mi hanno selezionata, dai. Figo. Ok, quindi, cioè, tipo il tuo allenatore ti ha detto... Anita, si va a Pechino. Sì. Che è un po' come si va a Berlino, ma è un po' diverso. No, a Pechino. Si va a Pechino. Quanto tempo prima l'hai saputo? Entriamo in questa... Perché l'esperienza dell'Olimpiadi, ovviamente, è curiosa, no? Quindi ti farò un po' di domande su questo. Tutte domande che ovviamente mi sono preparato e non sto improvvisando. Quindi ti arriva il tuo allenatore e ti dice... Anita, ciop ciop, ciop, si va a Pechino. Quanto tempo prima dell'evento succede questo? Eh, poco. Tipo mezz'ora? No, vabbè, no. Non è che... No, però tipo una settimana, magari. What? Una settimana? Veramente? Sì. Ma come una settimana? Sì, perché appunto, diciamo che le gare prima c'è stato un bel intermedio di tempo, però hanno aspettato un po' a dirlo, perché magari, che ne so, la settimana prima dell'Olimpiadi c'era, potrebbe essere un'altra gara in cui un'altra ragazza andava fortissima e dicevano no, non potrebbe essere fortissima. Ah, ho capito. Quindi hanno aspettato magari fino all'ultimo e, ma sì, come dieci giorni prima ti dicono vabbè, guarda che tra dieci giorni devi partire. Ma che cazzo? Ma scusami, io se mi dico, io se mi scrivo uno mi dice, ah, tra dieci giorni facciamo questo, no, devo prendermi il mio tempo per pensarci, ma che cazzo? Però magari si annusava già la possibilità, no? Cioè nel senso... Sì, no, esatto. Allora, noi come squadra eravamo sempre sei o sette ragazze l'anno scorso e di queste sei o sette ragazze qualcuna ci sarebbe andata probabilmente. Ok, ok. Poi diciamo che da quando, insomma, io l'anno scorso ho avuto questo piazzamento in Coppa del Mondo, un bel piazzamento, quindi un segnale che qualcosa c'era. E quindi con quel piazzamento lì iniziavo a vociferare, no? Ok, quindi diciamo sospettavi che poteva succedere, comunque non è che ti ha colto alla sprovvista. Ok, ok. No, 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 vabbè. Io dicevo, vabbè, magari con sta roba qua... Però la roba definitiva è una settimana prima. Da lì che cosa succede? Cioè immagino che quindi la preparazione per l'Olimpiadi ci sia... Cioè già prima è tutto quello che fai che è una preparazione per andare lì eventualmente. Allora, cioè praticamente ti dico, la preparazione a livello, non so come dire, di vita, preparazione globale è una cosa che fai tutto l'anno, come dire, cioè tutti gli anni, quando tu sei in questo percorso, ogni giorno che ti alleni, come dire, è in preparazione, non dico di quell'evento particolare... No, è ovvio che comunque... No, è ovvio che comunque... Però il fatto che noi comunque durante la stagione invernale siamo tanto tanto in giro, infatti domani parto pure, devo fare la valigia e quindi, non so, l'idea di partire non è che fosse come dire sono sempre a casa e devo andare alle Olimpiadi, no? Cioè sono sempre in giro e vado alle Olimpiadi. Chiaro. Quindi... È una roba che si inserisce nel tuo percorso. Sì, sì, esatto, però ovviamente il momento già era un po'... e anche come emozione, non so... Eri felice, no, di poter andare là? Sì, 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 quello è stata una bella notizia. Ok, quindi una settimana prima, oh, preparati che andiamo un pochino, figo. Poi ci sono... Cosa succede? Controlli antidoping già dall'Italia? Come funziona? Sì, no, quello è stato... No, l'antidoping... Non so se le Olimpiadi le ho fatte in realtà, perché quelli li fanno generalmente, anche in Coppa del Mondo, li fanno ai primi tre classificati sempre. Ok. Con i primi li fanno sempre. E poi dopo tirano a sorte dei numeri dei concorrenti. Quindi non fanno sempre tutti, capito? Chiaro. E quindi ti capita, a volte ti capita, a volte non ti capita. Ah, ok, ok. E noi, se no, tipo controlli antidoping li facciamo proprio come squadra. Come routine. Oh, ne ho fatto uno, sì, ne ho fatto uno o due settimane fa. Cioè, arrivano a caso. Quindi tu... Solitamente vengono dove... Cioè, sanno dove sappiamo, dove... Sanno dove siamo. Se siamo in giro a freddamento a sciare in un hotel, arrivano lì. Secchi. Ok. E in cosa consiste urine, capelli, cosa devi... No, urine, sangue, a volte solo urine, insomma. Ok. Infatti il peggio, quando si presentano al mattino, che tu non lo sai, ti svegli e ovviamente la prima cosa che fai è andare in bagno a fare la PT. Certo. Poi ti dicono, è arrivato l'antidoping e tu dici, sì, aspetta e spera perché... E tu potresti sempre urinare in generale in un barattolo, così in caso... Eh, esatto. No, pensa che... Cioè, per i... Per la volta... Quando fai proprio il test devi... Aspetta che c'è un piccolo lag. Ok, eccoci. Quando fai il test ci deve essere qualcuno nella stanza del team antidoping o ti dicono... Dammi? Sì, 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 sì. Praticamente... No, 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 no. Arriva, non so, questa è una persona incaricata e tra l'altro è una cosa molto... Cioè, è fatta molto bene perché è molto controllata. E poi, esatto, praticamente tu... Vabbè, ci sono un tot di fogli da compilare, poi dovete scrivere tutti, non so, se hai preso delle medicine, se prende degli integratori, cose. Poi ci sono un, non so, un tot di kit tra cui tu ne scendi uno, ne peschi uno a caso, controlli tutto anche come si è sigillato e quando vai in bagno c'è la tizia lì presente che... Trolla, che tu non sostituisci, non swappi. Esatto, esatto. Ok, quindi si parte a Pechino, siete andati in aereo, immagino? Sì, in aereo, sì. Com'era la... cioè, quanto tempo prima della gara vai in là? Quanti giorni? Cioè, fai tutte le Olimpiadi? No, tutte no. Noi siamo stati un po' più di una settimana, otto, nove giorni. Ok. Però che comunque ci volevano tutti, soprattutto perché in Cina, sto posto dove siamo andati a scegliere, era come delle condizioni molto particolari di neve, faceva un freddo allucinante e comunque ti devi un attimo ambientare. Certo. C'è un attimo di orario, c'è tante cose. Sì, non puoi performare appena sceso dall'aereo, poi devi, immagino, conoscere anche un po' la PIS, cioè un po' come la... ok. Sì, anche il viaggio, comunque saranno, non so, dieci ore di aereo, anche fisicamente ti spompano un po', quindi arrivi lì, ti ambienti... Il trattamento è stato dignitoso? Cioè, ti sei trovata bene, ti dà una magna... Sì, sì, praticamente c'era questo villaggio olimpico, la mensa, punto forte. No, la mensa però buona. Poi a me piace un sacco il cibo cinese, quindi ho mangiato un sacco di ravioli, cioè facevano lana ogni tanto, lana alla pechinese. E poi c'erano... Dimmi, dimmi, dimmi. No, da mangiare c'era di tutto, c'era tipo come un self-service con una zona solo verdure, una zona pizza, una zona cinese, una zona indiana, cioè... Ecco sì, volevo proprio chiederti questo, dovendo cucinare per tutte le etnie del mondo, fondamentalmente, cioè la cucina sarà stato un posto dove ovviamente devi rispettare tutti, bla 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 bla, quindi cerchi di soddisfare un po'. Non è che gli fai... Stasera c'è polenta, punto. No, polenta è basse. Esatto. No, no, c'era veramente da mangiare per tutti i gusti, per tutti i paesi, insomma, c'è anche gli spaghetti, ovviamente, io non mi sono osato di prendere. No, chiaramente no. All'estero non me la sento, spesso. Ok, quindi diciamo, vai là, provi un po' le cose, eccetera, eccetera, arriva il giorno della gara. Raccontaci, come ti cacavi, non ti cacavi... Ma, voglio essere sincera, per me, tipo, essere lì era super emozionante, no, quindi, non so, ero come molto euforica e entusiasta, no, però non ero come vincolata magari al risultato della gara, che è un po' strano, no, perché dici... Sei lì per fare una gara, insomma. Beh, però già essere lì è una sorta di traguardo, no? Esatto, per me, secondo me, ero così emozionata già dal fatto di competere in quell'evento che ero super entusiasta, insomma, ho sentita un po' sta cosa che, non so come dire, a prescindere dal risultato, ero già... Avevo già un bel risultato ottenuto, quindi ero molto emozionata, è stato bellissimo vedere... Avevo fatto una videochiamata con i miei genitori e la famiglia che praticamente la sera delle Olimpiadi hanno organizzato i miei genitori con mia sorella e, insomma, tutti i miei fan che sono... Tutto il gruppo con cui usciavo da piccola, tutti i parenti, un sacco di gente... Carini! Hanno fatto una serata al bunker, qua a Torino, sì, ma una serata in cui... perché la gara era in Cina, non so a che ora, forse alle nove del mattino, e in Italia alle tre di notte. Ah, quindi seratona e si guarda a te che competi, figo! Esatto! La prima manche era alle tre di notte, qua, e la seconda alle sette del mattino, infatti proprio i più temerari sono rimasti tutta la notte, fino a... Si sono ritrovati alle... alle otto del mattino ancora con i negroni. Et voilà! Ma... Come funziona proprio la competizione? Cioè, quante persone ci sono? E poi hai parlato di due manche? Sì, ecco, allora, ti descrivo magari la giornata di gara, così... Solitamente, tutti questi eventi importanti hanno... cioè, le gare hanno sempre due manche. Ok. Gli orari sono, per queste manifestazioni, sempre la prima manche tra le nove e mezza, le dieci del mattino, e la seconda tra mezzogiorno e mezzo, l'una e mezzo, insomma. Gira così. E allora, mi sveglio, faccio colazione, insomma, mi preparo, faccio lo zaino, con tutti i scarponi, roba, eh? Certo. Vesso da sci, poi va in pista, molto prima dell'inizio della gara, perché... Prima si fa un piccolo allenamento in un tracciato di prova, che non è sulla pista di gara, perché le piste di gara da una settimana prima dell'evento non ci si può allenare lì sopra. Ok, non si possono neanche guardare? Cioè, tipo, il tracciato viene... è pubblico? Il tracciato pubblico viene messo la sera prima, o anche il giorno stesso, anche il giorno stesso dipende dalle condizioni della neve, magari. Si può guardare, si può guardare, da quando è tracciato si può guardare. Non si può soltanto scendere su quella pista, però. Certo. Non si può fare allenamento. Comunque, quindi, si fa un piccolo riscaldamento su un'altra pista, una roba non troppo impegnativa e si fa un po' quello. E poi c'è l'orario, se metti la gara inizia alle dieci, dalle nove alle nove e mezza, c'è, hai mezz'ora, tutti gli atleti hanno mezz'ora per scendere e guardare il tracciato. Ah, figo, ok. La ricondizione si chiama. Ricondizione del tracciato, tu non puoi farlo velocemente, si scende tutti insieme, quindi, tipo, c'è lì il giudice che dice, aperta adesso, e quindi tutti insieme partono a guardarla. Quindi guardarla, ma anche per correrla, non in assetto da gara, ma che vai nel chilling. Pianissimo, però. Cioè, se, tipo, fai delle curve a velocità, non so bene la regola, però non puoi prendere velocità, diciamo, devi essere... Ok, non devi, non devi viverla, puoi soltanto studiarla. No, esatto, devi sorguardarla, così, studiarti un po' i punti che possono creare delle difficoltà, studiare in quali punti puoi spingere di più, in quali punti invece conviene essere un pochino più a controllare. Quindi abbastanza one shot, cioè, comunque, ci sono degli elementi di improvvisazione non banali nel fare una pista che non hai mai visto prima. Sì, lo sci è sostanzialmente lo slalom, ma anche tutti gli altri. Comunque è tutto, come dire, tu lo provi per la prima volta e quella è la gara. Figo! Cioè, quando tu sei in gara, devi già sapere praticamente quello che farai. Infatti, cioè, lo studio della pista in anticipo è importantissimo. Cioè, se tu lo paragoni a una gara di macchine, che quelle piste le avranno fatte un botto di volte, o comunque si sa, sono pubbliche, ci sono state mille e mille gare, qua il fatto che ti cambiano le porte ogni volta lo rende... Il tracciato è diverso. Figo! E poi i tracciati possono essere veramente tanto diversi. Cioè, perché adesso prima ti dicevo, il tracciato, sono una curva destra e una sinistra, sì, però ci sono anche delle figure, si chiamano, che si chiamano così perché sono come dei disegni magari di curve diverse. E invece che avere un ritmo regolare così, a un certo punto magari hai due porte tutte nella stessa direzione, e quindi hai una curva lunghissima da fare e si sposta tutto. Che devi prepararti prima però, quindi, cioè, nel senso fisicamente, no? Immagino. Ma fisicamente sì, anche, cioè comunque, poi noi negli allenamenti anche facciamo sempre tracciati diversi, quindi poi ti abiti, riesci a interpretarlo abbastanza bene. Però l'atleta più forte è quello che al primo corpo riesce a interpretarlo, a interpretare il tracciato commettendo il minor numero di errori alla fine. Certo. Poi è molto facile. Quello è figo, non sapevo... Questa cosa, ad esempio, è una cosa che proprio non sapevo, che alla fine è una competizione molto... cioè, molto variabile, no? Non è come una, appunto, una gara di macchina o così, che dove qua la pista veramente conta tantissimo. Però ci sono due manche, mi dicevi, e i tracciati sono diversi nelle due manche? Sì, anche sì, esatto. Ah, ok. Quindi c'è la prima manche, la traccia è un allenatore, che ne so, una volta è la traccia svedese, la traccia. Gli svedesi, tipo, tracciano in un modo particolare, anche io, non sempre, però, si riconoscono ogni tanto un po' quelle caratteristiche dei vari allenamenti. Quindi c'è anche uno studio prima di sapere, ah, noi abbiamo lo svedese, quindi sappiamo che bla bla. Ma quello, insomma, è fin troppo specifico, alla fine poi vedi il tracciato, lo vedi in pista, come... Però io comunque ho un'idea sugli svedesi, ce la uso come traccia. Mi sembra un flame. Tu, per te chi ha tracciato? Per me chi ha tracciato? Di che nazionalità, per le due gare che hai fatto tu? Ma le Olimpiadi, non mi ricordo, forse qualcuno l'ha tracciato, anche un italiano, però... Ma l'italiano sicuramente ha un mom da fatta arrivare, una meletta, no? Ma no, vabbè, ma alla fine, diciamo, poi... Le regole entro cui devono stare... Sì, non è che possono fare il tracciato dritto delle cazzariche. Esatto, esatto. C'è un po' di differenze, si può trovare, però... Cioè, no, le figure principalmente cambiano tanto. Ste figure qua che mettono, no? Che magari c'è una lunga, oppure a volte c'è tipo una figura che si chiama tripla, che sono tipo tre curve così, tutte molto... Strette. Sì, strettissime e dritte, come dire. Cioè, se tu prima arrivi con questo ritmo, poi fai tipo tre dritte così e poi... Ok. Vabbè, comunque sono tante figure diverse e il tracciatore decide un po' come metterle e può creare molte vittime. O scombussolare. Quanti concorrenti ci sono? Cioè, ogni paese in una gara compete con un solo atleta o... No, di più, no? No, 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 di più, di più. Cioè, il contingente, allora, tipo... Per le Olimpiadi è ridotto. Perché praticamente alle Olimpiadi ogni paese del mondo ha diritto a un posto, almeno. Ok. Cioè, ogni paese ha diritto a un posto. E però c'è anche un massimo, che sono tre o quattro, mi pare. Tre o quattro. Quindi ogni paese ha... Certo. E per esempio alle Olimpiadi magari eravamo in... 60... No, 70, 80, ma così... Però nella tua specifica gara quante altre italiane hanno fatto competizione? Ma in... Lì eravamo in tre. Ok. Eravamo tre italiane. E in totale quanti competevano nella gara? Ah, secondo me eravamo 70, 80. Ah, ok, era quello il 70, 80 che dicevi. Ok. Sì, sì, sì. Minchia, quindi alla fine la classifica c'ha 80 nomi. Sì, sì. Oddio, se arrivano tutti, sì. Ah, perché... Ma arrivano intendi a fine gara, a fine pista o arrivano a Pechino? No, alla fine del tracciato. A Pechino ci arrivavano più o meno tutti. Ah, può essere che non riesci a finire? Ah, sì, perché non prendi una porta... È classico. No, per questo è che ti dicevo le vittime del tracciato sono che praticamente puoi cadere. Comunque sono cose frequenti. Cioè, sono cose che succedono abbastanza spesso. A me è un po' troppo anche, purtroppo, è una cosa su cui sto lavorando. Ok. Di riuscire a arrivare sempre al traguardo. Perché magari c'è un punto difficile della pista, combinato a una figura particolare. Se tu, che ne so, ci sono mille modi per uscire dal tracciato. Sei un po' tipo statico, magari poco dinamico. Sto parlando di una... No, 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 si capisce. Sei un po' fermo, esci dal ritmo, cadi, insomma. Ci sono certe gare in cui magari il tracciato è molto difficile e su 80 persone che partono ne arrivano 40, magari, da l'età. Cioè, succede spesso. Chiaro. It's not finished, si dice. Perché... Ah, ok. Lì è proprio not finished. Oppure, quindi... Perché il punto è che tu devi riuscire a fare tutte queste porte. Quindi magari... Cioè, sei troppo... Curva, cioè, arrivi tipo lunghissimo, perché appunto sei in questo pendio stendendo giù e arrivi poi troppo sotto e manchi la porta prima. Certo. Ah, ok, ok. E a che velocità vai tu di media? Cioè, tu o comunque di media? Secondo me, noi, in slalom speciale, arrivi fino ai 50 all'ora, secondo me non di più. Perché comunque sono proprio curve strette. Eh, 50 all'ora sui piedi non è male. Sì, ma non ti accorgi nemmeno. Cioè, non è che ci fai caso alla velocità. Cioè, alla fine poi è un'abitudine. Naturalmente, no. Io che vado di solito agli 0 km orari, non muovendomi da questa sedia, 50 è tanto. Cioè, anche in bicicletta ha fatto i 50 km orari, lì sei con gli sci, che a quel punto sono un po' un'estensione dei tuoi piedi, cioè, nel senso, sei abituata. Però, comunque, tu ti sei mai fatta male cadendo? Se sei mai caduta, ovviamente, non lo so. Sì, proprio parte del gioco. E farsi male, no? Io l'ho avuto. Sì, no, vero. No, vabbè, non è obbligatorio, non è che c'è tipo una selezione. Eh, ma lei si è fatta male. È bravissima, però è caduta solo due volte, quindi purtroppo non possiamo farla passare, ok? No, non è così, però è super frequente. Io mi sono fatta due volte male, due infortuni gravi, nel senso che ho rotto due crociati. Cioè, è grave. Cioè, però, vabbè, capita. Sti cazzi. Ma è quindi, cioè, te li riparano e poi li ritorni a fare le robe? Eh, sì, cioè, quello è un po' lo sbattimento, perché il crocciato, effettivamente, quando ti rompi sto legamento, poi devi stare sei mesi senza sciare. Cioè, ti devono operare più che altro. E quella è la cosa. Ti devono operare, te lo rimettono nuovo, però poi ti passano sei mesi di fisioterapia. Ecco, insomma, non è proprio simpatica come cosa. No, ma infatti mi piace la tua attitudine, ah, sì, mi sono spaccato sta cosa, una sbatta, sembra che racconti quando sei andata in posta. Ah, sono andata in posta, sì, ho fatto un po' di coda. Ah, vai, vai, due crociate, ok. Eh, vabbè, ma non so come dire, è che è proprio un infortunio, purtroppo, perché è bello, farsi male, però veramente è molto comune. Secondo me, adesso non voglio sparare le grosse, però, cioè, tipo i materiali che si usano adesso e il tipo di sciata che c'è adesso, sta, non so, forse aumentando anche la percentuale di infortuni. Ma sì, perché, cioè, gli sci, quando girano, comunque le nostre articolazioni non sono fatte per queste torsioni, magari. E allora lì è più facile che qualche pezzo fare, tanto. No, la tua, ok, perché, ecco, parliamo adesso degli sci e del, che comunque è una cosa affascinante, cosa, non so proprio niente, non so neanche cosa chiedere, cioè, ci sono di dimensioni diverse, come fai a trovare il tuo sci, te li fanno su misura, sono fatti di carbonio, immagino. Ma, no, materiale penso siano, ci hanno delle caratteristiche particolari. L'attrezzatura cambia, allora, se parliamo del mondo dell'agonismo, quindi gare, uno fa gare, ci sono queste quattro discipline e ogni disciplina ha un limite di sci che si possono usare, no? Cioè, gli sci, un limite di lunghezza. Ah, ok. Tipo in slalom non puoi usare gli sci più corti di un tot. Perché ovviamente sci più corto sei più agile, immagino. Sci più corto, sì, e non cambia soltanto la lunghezza, però anche, cioè, due caratteristiche principali che hanno gli sci, poi ne hanno altre 100.000, ma quelle principali sono due. La lunghezza e il raggio di curva. Quindi lo sci, praticamente, ha questa sciancratura, che è più largo in punta e più largo in coda, è stretto al centro. Certo. E la, si chiama sciancratura, serve a fare le curve. Perché, praticamente, dal momento che tu inclini lo sci, questa sciancratura che è qua dentro lo fa, capito? Lo spinge. Gli fa creare un arco di curva. Ho capito, ho capito. Si incurva e ha questa sciancratura che, in base a quanto è marcata, no? Lo sci fa un certo raggio di curva. Ok, quindi, a lì, per rendere, diciamo, per avere un fair ground, non puoi avere una curva troppo... No, esatto. Allora, sì, ci sono delle limitazioni lì. Nelle gare di slalom, gli sci, vabbè, poi usano tutti più o meno gli stessi, ma anche perché sono i migliori. Ok. Tipo, io uso, per fare slalom, 155 di lunghezza, o un 157, comunque, siamo sempre l'intorno. Vatti, più o meno come me. E sono... Ce l'hai uno sci qua da farci vedere, così, per curiosità? Eh, ma senti sci, forse l'unica cosa che mi manca. Cos'altro hai di bello da farci vedere? Ma, non so, dei caschi, delle protezioni. Ah, è vero, poi c'è tutto quello. Scarponi. Vai, facciamo... diventa una televendita adesso. Ho uno scarpone, no, perché io qua in camera c'ho proprio un casino. Ho uno scarpone da sci. Carino, dell'Italia, proprio. Sì, è vero, ma pure con i colori giusti. E niente, sono di plastica e anche questi sono, tipo, fatti su misura. Perché devono essere molto stretti per avere maggiore sensibilità. Perché essendo già di plastica, comunque, insomma, sono rigidi, non è come le scarte. E allora, essendo stretti, bisogna un po' lavorarli dentro per... Quindi è fatta su misura sul tuo piede, questo. Sì, esatto, esatto. Nice. Sono quasi comodi. Quasi comodi, ok. Scarponi da sci comodi non esistono. Quindi quasi comodi è il meglio che si possa avere. No, dicevo, gli sci te li porti tu o... No, c'è questo schimen. Sì, sì, no. C'è un... Lo schimen... Che si... Gabriele si chiama? Gabri. Ah, poi tutti si chiamano Gabriele. Praticamente lui tiene tutti i miei sci. Per questo che non li ho io a casa. Ah, ti tiene tutti i tuoi sci. Ah, Gabriele. Quindi è al tesoro lui. Qui tiene tutti i miei sci. Esatto, esatto. Io senza di lui non sono nessuno. Ma è a sua volta uno sciatore lui o è solo un appassionato di sci slash i tuoi piedi? Lui... No, no, no. Lui... Tipo... No, è un ex sciatore. Nel senso che ha fatto le gare anche lui per un tot di anni. E poi... Niente, si è messo a fare questo lavoro. Che è schimen. Vuol dire che lui ogni giorno prepara gli sci per il giorno dopo. Perché quando ne ha fra l'allenamento magari portiamo tre o quattro paia di sci perché li proviamo, insomma... Ok. E li prepara perché in un allenamento magari un paio di sci lo usi tre o quattro giri e poi non lo usi più. Certo. Perché questa lamine qua di metallo si consuma e allora dopo tre o quattro giri insomma non li usi più e al pomeriggio li devi ripreparare per il giorno dopo. Wow, ok. Quindi non è roba che sta lì e poi la usi ma va manutenuta? No, no, no. Sì, tutti i giorni c'è un grandissimo, grandissimo lavoro. Un grandissimo lavoro per gli sci. E invece... Poi anche per provare gli sci migliori, insomma... No, chiaro, chiaro. Vabbè, quello immagino non si faccia proprio prima della competizione ma nella fase di preparazione, no? No, esatto. Durante magari d'estate proviamo un po' di sci, poi insomma tu trovi il tuo e poi magari io durante la stagione ho due modelli che scelgo in base alle condizioni, però poi sono quelli e via. Per finire sul strumentazione cosa c'hai poi? Caschetto, paragomiti, paraginocchi? Sì, ma mi posso anche far vedere, dai, che c'è qua. Let's go. Poi intanto devo tirar fuori le cose per... Per metterle in varia... Vuoi fare la valigia con noi? Questo qua è... Sì, volevo farlo, avevo detto sfrutto l'occasione così tiro fuori un po' di roba. Questo qua è un armadio tipo di Superman con tutte le cose. Ok. Tutte le robe da sci, qua c'è un casco che adesso lo prendo, aspetta che... Eccolo, tac. Ah, questo è per quando devi consigliare la posta per arrotondare. Sì, sì, tipo poste. No, e questo qua è da gigante e poi invece c'è neanche un altro. Aspetta che tiro fuori tutto. Questi qua sono parastinchi si chiamano. Minchia, così spessi? Eh, questi sono di carbonio, sì, perché ti prendi sennò delle belle ginocchiate forti. Perché considera magari a 50 all'ora un paio sulle ginocchia e fanno male. Adesso non si vede dal video ma... Sono enormi. Si mettono sulla tibia. Sì, si mettono così sulla tibia e ti proteggono dai pali. Poi qua c'è un casco da slalom, che è l'altro casco. Ti faccio vedere perché sono leggermente diversi. Più aerodinamico. No, c'è la protezione qua più che altro per... Dimmi se vedi qualcosa. Sì, sì, questi che sono di colore così acceso. Ah, da ok! Sì, perché anche lì ti potresti prendere dei pali in faccia. Ok, giusto. Insomma, serve proteggersi proprio bene, se no può essere doloroso. I pali di cosa sono fatti, scusami, di plastica dura? Sono fatti di plastica, però... Però i 50 all'ora un palo di palastica fa comunque poco più. No, esatto, esatto. Cioè non lo consiglio a nessuno. Questi qua sono sempre le braccia invece. Avambraccio. Così si mettono. Avambraccio, spalla. Che pali, ma per vestirti ci metti in ora con tutti questi pezzi. Sì, infatti. E tutta questa roba non ti rende un po' bolsa nel movimento o no? Sei abituata? Sì, no, sono abituata, però effettivamente qualcosa sì. Faccio vedere anche una tutina da gara. Vai. Ce l'ho qua tanto. Aspetta che la giro perché stai girata al contrario. Così, perché queste qua poi, quando faccio le gare, scendo con queste, che sono super attillate. Per essere veloci. Non vi faccio l'aspirata, ma... No, no, ma... Ok, cosa... Cioè, cos'altro hai sotto a parte la tutina? Ma una magliettina... Io uso, mi metto una maglietta. Termica, tipo una roba così. Guarda che proprio c'è tutto qua a portata di mano. Una magliettina così da sci. Easy, ok. Sì, e poi la tutina. Più le protezioni, basta. Quindi sei... Cioè, nel senso, quelle tutine le tengono veramente molto caldo? Perché se no... Ma, sì, no, allora ti dico, quando noi andiamo a sciare non sto solo in tutina. Cioè, quando vado ad allenarmi metto anche la giacca. Vabbè, tanto sti cazzi della performance ci sta. Sì, e poi esatto, quando devi fare la gara ti metti in tutina. Comunque anche quando fai allenamento nel tracciato. Chiedono quanto si guadagna a fare questo mestiere? Allora, dipende, dipende tantissimo. Ci sono... Allora, per me, personalmente, il mio guadagno è dato, come detto all'inizio, dal gruppo sportivo dell'esercito. Che, appunto, è il modo dello stato di finanziare gli attenti. Che è uno stipendio standard. Sì, esatto. Perché altrimenti, cioè, lo sport, non dico che non esisterebbe, a parte il calcio, forse, che loro non hanno proprio bisogno di queste cose. Però tutti gli altri sport, sì, hanno più necessità. Dopodiché, oltre a un certo livello, si può guadagnare sia tramite gli sponsor, quindi, se un atleta trovo uno sponsor, lo fanno. Tu hai uno sponsor? No, attualmente no. Allora, sponsors! Andate da Anita! Ovviamente che abbiate a che fare con, non Young Platform, delle cripto, ma qualcuno... Forse anche tu, scusami, non ti puoi mettere sulla tutina, tu ti puoi mettere quello che ti pare. Potresti sponsorizzare anche me. C'è tanto le droghe? Sì, guarda. Potrei... Quanto vuoi... Allora... Mettere il mio logo, piccolo, piccolo, su una spalla, da qualche parte, sarebbe forte. No, lo mettere volentieri. Tanto per non avere nulla, ti dico. Ci sa, facciamo un contrattino di sponsorships e si lavora. Questo potrebbe essere interessante. Sponsorizzare un atleta, dal mio punto di vista, farebbe molto ridere. Ok, poi... L'ultima parte del guadagno che c'è sono i premi gara, tipo... Ah, certo. In Coppa del Mondo, una gara di Coppa del Mondo, vincerla, che non è così semplice. Dipende dalla gara, ma si è sui tipo 20, 30, 40 mila euro, forse. Ah! Sono tanti, sono tanti. Bono, bono. Però, insomma, vincerla, oddio. E premi gara sono tipo... Dalla prima alla trentesima di Coppa del Mondo, e la trentesima prende 500 euro. No, di meno, forse. Ok, quindi, diciamo, quello non conta proprio molto come stipendio. Però, se ti becchi un ventone, un ventone, 20k, è male. Infatti, poi, appunto, se uno vince una gara di Coppa del Mondo, si presume che abbia anche, magari, degli sponsor. Cioè, fa molto ridere che la Coppa... Cioè, nel senso, in termini generici, dire Coppa del Mondo, 50k, fa ridere al cazzo, perché ci sono tornei di League of Legends che pagano di più. Però, ok. Cioè, è... Poi, almeno, come cifre, così, diciamo. Ma una gara, poi ce ne sono 10 in un anno, quindi... Ah, la gara, una singola gara, ah, dai, dai, ok. Cioè, sì, la... tipo... adesso non so, però... una... l'atleta più forte, magari, di sci, in un anno può vincere 500.000 euro di premi gara. Stop. Beh, coglione, eh, quello non è malissimo. Sì, devi comunque... cioè, è solo una persona... Certo, certo. Ecco, su questo volevo chiederti... A te dà fastidio? Cioè, senti un po' il fastidio di essere in uno sport che non è così nazional-popolare? Ma... no. Non te ne frega un cazzo? No, vabbè, ti dico, secondo me... poi vabbè, io sono... come dire, molto inserita nel contesto scistico, quindi... Non so, in generale, tra i vari sport, penso in realtà che ci sia abbastanza pubblico, comunque. Cioè, in Italia, penso sia abbastanza seguito, soprattutto negli ultimi anni, comunque, è delle donne, c'è un po' di gente che va molto forte, italiana, e... Sì, non è, ovviamente, il calcio, o il tennis, così... Però, dai, comunque, lo sciarpino, in generale... E comunque è ben guardato. Poteva andarti peggio, potevi fare curling. Vabbè, quello adesso sarebbe un lusso, però... Visto che sta spopolando... ha spopolato. What? Sta spopolando il curling? Ma lo sai che Pinerolo... Sta spopolando, no, ma ha spopolato. Tu che sei dalle nostre parti... Io sono di Pinerolo, no? Ah-ah. E Pinerolo, nel 2006, alle Olimpiadi, era la capitale mondiale del curling. Attenzione! Allora, veramente... Attenzione, attenzione. Curling che io definivo bocce su... bocce su ghiaccio, ovviamente. È chiaro. Che a me piace, cioè, mio nonno era bravo a giocare a bocce, quindi mi ha insegnato e mi piaceva. Io, ecco, da Pechino... Ero lì, ho seguito tutte le gare del curling, ma con un entusiasmo che non pensavo di avere. È figo, è figo. Non so perché viene così, però è figo. Sì, ma il migliore è stato il telecronista delle Olimpiadi. Infatti ci sono dei video che mi hanno fatto troppo ridere. Questo qua inizio a dire... Sì, è una favola, Beppe, si boccia, si boccia! E poi arriva la bocciata finale. Io ero... Bello. Grandi emozioni. Senti, c'era una domanda prima che ho visto qua in chat, poi ti lascio andare che devi fare la valigia, ma ho ancora un paio di domande. o dicevano... Qualcosa in merito alle diete e agli scandali recenti, che io ovviamente non ho seguito. Non so se tu le hai seguiti. Vabbè, devi mantenere una dieta e immagino... No, allora, di sci alpino penso che sia un sport con meno problemi a livello proprio di diete così, perché non ci sono limiti di peso, puoi essere... Puoi pesare quanto ritieni necessario tu, ma non hai imposizioni, non è come dire sport di... che ne so, pesistica, che ci sono le categorie, insomma, oppure anche... No, può darsi che forse uno sport che ha tantissimo questa problematica, da quello che so, è il salto con gli sci. E lì c'erano stati tantissimi problemi, perché appunto, salto con gli sci, c'è questo trampolino lungo, non so, 100 metri, e uno scende di lì e poi deve volare. Ovviamente più sei pesante, meno voli. E quindi gli atleti di salto con gli sci erano tutti, ma... Tenuti alla fame. Fortemente sotto peso. E quindi lì è stato introdotto adesso un limite minimo di peso. Ah, ok. Non puoi pesare meno di un tot, perché... Non è... Salutare. Ecco, e l'ultima domanda, ma poi magari c'è ancora qualcosa che arriva dalla chat, questa è una domanda molto delicata, quindi puoi anche rispondere con... Non parliamone. E riguardo lo sport, e diciamo le categorie maschio-femmina, e poi come queste categorie oggi siano... Forse un po' strette, no? Rispetto a quello che... Ah, ok. Hai visto come la sto approcciando da molto distante. Considera che qua su Twitch questo è già un argomento molto pericoloso, quindi tu tieniti sui generis, non fare... Anzi, sui genderis. Però, no, mi chiedo, tu in qualità di donna, se avessi un biologicamente uomo competere nella tua stessa gara, cosa ne penseresti? E come vedi una possibile soluzione per un reale problema? Perché comunque è giusto che le persone transessuali possano competere in una categoria dove si sentono loro, ecco. Sì, 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 no. È veramente una domanda difficile. Cioè, comunque... Una domanda super difficile, perché è effettivamente una problematica presente. Esatto. Non è che non ci sia. Però la soluzione è un po' complicata. Molto difficile. Poi anche la risposta è ok. Volevo sapere, diciamo, dall'interno di un atleta che magari... No, no, no. No, ci sta. Ci devo pensare, sinceramente, perché... Non mi era ancora posto il problema, sinceramente. Non ti è successo da te? Perché nelle ultime Olimpiedi ci sono stati parecchie discussioni in merito a questo. E il comitato olimpionico, visto che inizia a prendere decisioni, ma qua dove vai? Vai, pensi una merda. Anche solo a fare la domanda, probabilmente. È una cosa che... Cioè, secondo me, in uno sport come lo sci, ci sono un po' di differenze tra categorie maschile e femminile, perché proprio le piste spesso sono diverse, non facciamo quasi mai le gare nelle stesse piste. e questa cosa qua è già un po' diversa. Dopodiché, non so, in qualche modo, qualche soluzione si troverebbe, ma... Cioè, si può trovare, ovviamente, non è che ci sono dei problemi senza soluzione, ma... No, è un tema, secondo me, che nei prossimi anni sarà... Sì. Da comprendere, perché alla fine, secondo me, io credo che... una persona che cambia sesso ha delle caratteristiche per cui... almeno parte di quelle caratteristiche è il motivo per cui esistevano le due categorie prima, ok? Quindi non è che si può passare da una parte all'altra... Esatto, comunque esatto, a livello fisico, proprio puramente del fisico di una persona, non so bene poi, cioè, come si possa valutare questa cosa. Ovviamente, insomma, un corpo di un maschio, un corpo fisico, può avere delle prestazioni di forza più alte, è questa cosa indiscutibile. Secondo me... Cioè, poi, oddio, magari c'è... Ovviamente ci sono poi delle donne che sono più forti di alcuni uomini. Ovviamente, però... Penso che... già solo prendendo me e te tu mi batte in qualunque possibile cosa in cui ci si muova, in generale, quindi non è un problema. No, sì, però comunque a livello teorico poi non saprei di... No, diciamo... Poi ovviamente voglio dire questa cosa, non credo esistano atleti che decidono di passare, di fare una transizione da una parte o dall'altra soltanto per cambiare categoria. Questa mi sembra una grandissima stronzata. No, questo è impossibile, anche perché, cioè, comunque penso che già prendere una scelta, così, fare una transizione non penso sia proprio la cosa più semplice per una persona. Quindi, oddio, farlo per una gara, cioè, per uno sport. Mi sembra abbastanza insane. Spero che nessuno lo faccia perché sarebbe veramente esagerato, assolutamente. No, infatti, mi sembra una... Però ho visto alcune critiche su Facebook che dicono Ah, certo, questo qua ha cambiato, così va lì ed è più veloce. Mi sembra proprio un po' una mignottata. Però sicuramente è un tema, è un tema dove la società varia e questo è un tema, diciamo, alla fine ci sono delle questioni tecniche che non puoi bypassare. Finché si parla di come la società ti percepisce, come tu ti percepisci, quello è tutto un terreno inesplorato ed interessante discuterne, eccetera. Però, secondo me, qua bisognerà fare poi delle scelte che risulteranno sicuramente impopolari. Cioè, una parte dall'altra saranno impopolari. Però... Comunque le gare per il momento sono distinte. Una gara di femmine e una gara di maschi. si faranno... Si possono fare delle gare in... Insomma, di persone. A gruppi, diciamo. Sì, puoi fare una categoria unica, però comunque continuerebbero a esistere quelle separate e saranno poi quelle le più... Quelle seguite, insomma, che è... Poi però non puoi fare ovviamente una categoria transgender apposta perché è uber discriminante. E poi avresti teoricamente lo stesso problema perché da lì ci finiscono sia maschi che femmine quindi rimane sempre una norma mista. I don't fucking know. Piuttosto complesso. La discussione è questa, sì. Tu, nel tuo piccolo... Cioè, nel tuo piccolo... Nella tua realtà italiana eccetera eccetera ne hai sentito già parlare qualcosa o... No. No. Cioè, all'interno proprio di... Anzi, questa domanda che mi hai fatto mi ha lasciato un po' come dire spiattata perché è proprio un tema che non sono abituata ad affrontare nel mio ambiente. Le uniche questioni che ci sono ogni tanto sono usciti dai commenti quest'anno per delle frasi dette ma non tanto su questo argomento. Perché so che forse era in America sul nuoto c'era stato proprio un caso esplicito di una persona che era... Diciamo una... Aspetta che... Qua... Dunque... Ok. Una donna che ha effettuato la transizione da uomo e quindi è andato a concorrere nella categoria delle donne e ha preso praticamente tutti i premi che c'erano e lì quindi in America c'è stata un po' la discussione se hai iniziato a parlare quindi... Però ovviamente magari se non è una cosa che riguarda specificamente sia la tua disciplina che l'ambiente italiano può essere che non sia ancora... Esatto, per il momento non sia ancora a posto il problema cioè il problema non c'è ancora stato magari un episodio così... Eclatante Esatto da chiamare tutta questa attenzione Certo tematica nel nostro ambito però effettivamente Vedremo il futuro cosa ci... cosa ci riserva ma... riserva riserva Comunque guarda ti dico il tuo armadio ottima connessione ti darò questa informazione Sfondo Neutro Hai visto è perfetta per le interviste e... C'era qualcos'altro che volevo chiederti come cosa finale Ah no non ti ho chiesto com'è andata quindi alle Olimpiadi Ah Eeeh ma io ti dico come esperienza bene e la gara media Media Io direi bene rispetto al mio stato di forma di quei giorni lì Ah ok Cioè perché comunque anche lì è difficile magari trovarsi in forma tutto l'anno e insomma quei giorni lì prima della gara appunto quella settimana che è passato da quando siamo arrivati al giorno della gara non ho avuto proprio una gran fiducia un bel feeling con la neve proprio cioè ho fatto dei elementi un po' ok un po' così che mi hanno un attimo era anche la tua prima volta a finire in un posto così grande così sì no per sciare insomma un evento così un evento del genere è esagerato però hai detto una cosa che mi ha fatto ricordare la domanda che volevo farti la neve è cioè è sempre vera cambia com'è la devi assaggiare cosa se io porto sempre un po' di olio un po' di sale un po' pulissimo le degustazioni no è sempre diversa sempre diversa perché non esiste la neve uguale ci sono delle delle neve delle nevi simili lo so però è sempre diversa in cina era super particolare a detta di tutti non solo mia perché era completamente artificiale perché si sono svolte in un posto in cui non nevica faceva freddissimo perché è un posto dove ci sono meno 15 meno 20 freddo cane faceva troppo freddo per nevicare quindi esatto esatto un posto che fa così freddo e poi anche abbastanza secco in cui di base non è che ci siano precipitazioni e tra l'altro la cosa incredibile è che durante il periodo delle olimpiadi c'è stata una nevicata una nevicata naturale che è stata come una precipitazione valida per due anni capito rispetto alle precipitazioni annuale che ci sono lì quella nevicata proprio il giorno di una gara delle olimpiadi era una roba mai vista mai vista ma lì dove c'era la gara proprio sì sì esatto proprio durante la gara e lì come fanno gestire cioè se c'è la neve sotto falsa poi di cosa è fatta quella neve lì vabbè forse no di acqua no no è neve di acqua è neve fatta cioè è artificiale perché non è nevicata dal cielo ma è sparata ci sono degli aggeggi apposta si chiamano cannoni sono degli sparaneve i cannoni che sparano la neve dentro ci passa l'acqua e col freddo eccetera come una nevicata artificiale però è diversa rispetto cioè la sensazione è molto diversa di molto diversa sì perché comunque la cioè la neve è come un po' non so un po' una magia no che c'è quella esatta temperatura ma anche già solo le diverse nevicate se cambia di un grado cioè nevica quando ci sono 0-1 gradi se ce ne sono 4 piove se ce ne sono meno 10 magari nevica ma vedi proprio che i fiocchi cambiano tantissimo le nevicate più grandi quando hanno proprio le fioccate così sono su 0-1 gradi vedi proprio delle belle fioccate quando scende troppo la temperatura si fanno dei fiocchettini minuscoli che sono più dei cristalli che poi non non si amalgamano cioè non creano un bel tessuto sono proprio diverse sono proprio diverse poi ma è sempre in evoluzione c'è il manto il pendio quella neve che si trova e magari un giorno nevica poi se sopra a un certo punto si mette a piovere poi viene freddo si ghiaccia la pioggia generalmente la regola è questa se la temperatura rimane sempre sugli 0 o più fredda quindi la neve non si scioglie mai i fiocchi rimangono fiocchi e si compatta si compatta e basta ma sono tipo fiocchi uno attaccato all'altro se invece viene del caldo si scioglie il proprio fiocco di neve si scioglie diventa come una goccia d'acqua e poi quindi è proprio una neve super bagnata a quel punto se viene freddo diventa un ghiaccio però il ghiaccio è diverso dalla neve invece se non viene più freddo rimane come una granita come una granita diventa quasi e tu quando competi cioè competi in uno di questi qua o si fa di tutto perché no allora quando ci sono sulle piste di gara l'obiettivo è che la neve sia più dura possibile se fa molto freddo no in generale si prepara la pista si prepara la pista da gara magari già una settimana prima ci sono diversi modi comunque una un modo più usato è di passare come una specie di rastrello sulla pista così e questo rastrello ha delle punte che inieziano un po' di acqua sotto la neve per avere poi il ghiaccio quindi sparano acqua per avere ficano dentro l'acqua proprio dentro la neve perché si crea questo ghiaccio e invece un altro modo quando invece fa tanto caldo e quindi non si creerebbe il ghiaccio si mette il sale ah ok quando l'acqua quando la neve è molto bagnata quindi fa molto caldo sono 10 gradi 5 10 15 gradi perché ormai anche succede spesso ah è vero c'è anche il cambiamento climatico che non aiuta al nostro sport quello negli ultimi stavano c'è diciamo la se fa così caldo la neve si scioglie però non si ghiaccerebbe più allora si butta proprio il sale così a manciate sulla liberamente sulla neve in modo che la faccia se la faccia la fa indurire no ok diventa poi vabbè quindi c'è tutta una gestione anche delle piste che non è non è banale la pista la gara si è portata e cosa volevo anche perché effettivamente se ci pensi una pista un tracciato e ci passano 70 persone quindi partire per primo partire con il 50 ha fatto la stessa cosa e più la pista è tenuta bene più le condizioni sono più o meno uguali per tutti però questo cioè non sono mai uguali perché comunque 50 passaggi su un tracciato è quello che dicevo stavo giusto pensando beh ma allora quando ci passa qualcuno te la ta compatta te la storce e poi puoi anche copiare no cioè se c'è il percorso di quello di prima tu lo copi sì sì no ma allora ti dico in un tracciato ci sono queste porte e più o meno tutti passano nello stesso punto perché e quella è la via giusta non è che cioè se uno esce proprio dalle linee che ci sono per terra stai sbagliando qualcosa non è che poi cioè non è che ti inventi tu certo la tua linea particolare più o meno sono tutti che passano cercano il stesso punto quindi la differenza si fa la differenza si fa frenando il meno possibile cioè tu tieni questa linea e cercando di essere di perdere meno tempo possibile di essere più sia più scorrevole quindi perché gli sci tipo quando spattrano così sulla neve frenano invece quando tagliano così vanno più veloci quindi cercare di essere proprio scorrevole e anche appunto con questi sci che si deformano e ti fanno accelerare ok li carichi come una molla e ti restituiscono no la risposta cioè quando li deformi ti spingono loro quindi i modi con cui si fa un po' la differenza insomma molto molto interessante non sapevo nulla e adesso ne so un po' ah parecchio secondo me dai comunque hai visto ho fatto secondo me un buon 20% di domande stupide però l'80% erano ok credo no cavolo no no bello bello anche a me mi ha aiutato a ripassare un po' ecco così ti metti nella valigia anche un bel ripasso di teoria ecco qua esatto dove vai di bello adesso competi o per divertimento tra poco iniziano le gare tra poco poco 19-20 mi pare 19-20 le prime gare in Finlandia e niente quindi no vestiti bene che fa freddo lì eh sì no cavoli l'altro che adesso infatti devo fare la valigia perché da domani starò via non so ancora per quanto infatti questa è un po' la criticità che non so nemmeno cosa mettere in valigia perché è tutto random devo prepararmi esatto cioè potenzialmente puoi stare in giro diciamo a girare ai caraibi non credo però esatto i costume li lascio qua ci avanti però no domani andiamo in Val Senales che è tipo una valle imboscatissima vicino a Bolzano da Bolzano si prende verso Merano che è la cittadina poi si sale in una valle strettissima ok c'è un ghiacciaio che è l'unico aperto adesso cioè uno dei pochi aperti adesso comunque magari messo un po' meglio stiamo lì quattro giorni facciamo allenamento e poi prendiamo l'aereo l'undici andiamo su in Finlandia stiamo lì una settimana facciamo le gare non il prossimo fine settimana quello dopo gare di che circuiteria questo sarebbe coppa del mondo coppa del mondo quindi ci sono 50k in palio per te let's fucking go si dai 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 ma se scusami se il pubblico comunque qua sono 2000 che ti stanno ascoltando attenzione non te l'ha detto no quanti erano ok se il pubblico vuole seguire cosa fai o si è interessato comunque a questo sport come possono seguire vabbè a parte tu non so se vuoi dare il tuo instagram questo decidilo tu ma tanto ti hanno già trovato come mi chiamo Anita trattino basso gulli ok Anita trattino basso gulli moderatori adesso fanno un piccolo prip prip e lo mettono in chat se volete andarla a seguire e poi se vogliono proprio seguire invece le gare eccetera dove cosa possono ma allora io cerco di impegnarmi a segnalare le gare a cui prendo parte sul mio canale sul mio profilo instagram si vede che sei lì sul mio coso lì come cazzo si chiama cerco di impegnarmi dico no ci però ho già mezzo tutto ok ok niente no no lo farò lo farò e se no c'è un sito fis ski si chiama così e lì ci sono tutti le dirette delle gare di sci alpino lì ci sono diciamo c'è la diretta non col video ma soltanto con i piazzamenti quindi puoi capire come uno si piazza come sta andando ok le gare le fanno vedere su iSport però su iSport fanno vedere soltanto i primi 30 solitamente visto che io parto ancora purtroppo sono nel 40 50 giù di là 60 com'è solitamente non ci sono però un giorno sarai su iSport si no ogni tanto capita che ci sia ogni tanto e se no è Eurosport per chi avesse Eurosport player li fanno vedere tutta la gara e niente per chi lo avesse cosa dicono Eurosport in effetti Eurosport player si Eurosport player Eurosport le fanno vedere tutta la gara tutti fino all'ultimo quindi ci sono tutti vedermi seguirmi le mie acrobazie Eurosport carissima io ti ringrazio è stato super interessante e spero di non averti annoiata troppo con le mie questioni ma anche la chat la vista bella attiva che chiedeva eccetera quindi ti abbraccio ti auguro buona fortuna porta a casa sti 50k sarebbe proprio bello ce la metto tutta io tutto quello che posso raccattare lo prendo ecco qua tifano già vedo del tifo li divide no che li vuoi dividerli vabbè chiedono niente quindi grazie mille per il tuo tempo buona fortuna buona Finlandia cose e quando vinci una medaglia olimpionica sei già reinvitata qua tu dirai che cazzo me ne frega ho vinto una medaglia però tra i vari premi della medaglia olimpionica grazie olimpica non so anche come si dice vabbè c'è il ritorno qua per festeggiare insieme ecco qua mi impegnerò ancora di più allora adesso che c'è questo ora che me l'hai detto che c'è questo stimolo perfetto beh vedi che hai 4 volte al giorno perfetto anziché 5 tutto per sempre fino all'Olimpiadi solo allenamento esatto grazie ancora cara buona serata buona valigia grazie a te grazie a te buona serata ciao ciao vi siete divertiti vi siete divertiti minchia c'è gente che mi dice ah ma le unghie le unghie minchia ti sei messo lo smalto mamma mia che bigotto il cazzo che siete poi sono io il vecchio di merda c'ho 31 anni c'è gente in chat ah le unghie colorate ma che cazzo fai mamma mia che falliti grazie a tutti